La nostra azienda opera nel settore della produzione di software per gaming machines sia in ambito terrestre che in ambito online sviluppando e commercializzando i propri prodotti prevalentemente in Italia ma anche attraverso il canale online su ambiente online Europa-Asia. La nostra prima partecipazione NADA risale a 15 anni fa e come ogni anno presentiamo a NADA di Rimini la nostra più recente produzione in ambito software per il mercato italiano. In questo caso stiamo presentando i nostri prodotti più performanti conforme alla nuova normativa che è stata introdotta con la legge di stabilità dello scorso anno al 68%, quindi la linea di multigioco Dreamset nonché ospitiamo presso il nostro stand altre società molto importanti quali MyOne che è una società che collabora con noi in ambito di abbigliaggi o comunque complementi d'arredo per le sale piuttosto che WarMatch che è una società appartenente al nostro gruppo che si occupa di distribuzione, produzione, distribuzione e commercializzazione di giochi per il mercato online. La vetrina di NADA ci aiuta a dare un valore aggiunto al nostro prodotto in quanto tutti i nostri clienti possono ammirare le nostre ultime creazioni e dare uno slancio alle vendite dei nostri prodotti quindi sicuramente una vetrina che sta crescendo anche a livello internazionale ci aiuta a dare un bel imprinting del nostro brand al mercato. Essendo una società che sviluppa software l'innovazione e i costanti investimenti in ambito software ci permettono di creare prodotti sempre più evoluti in un mercato che cambia costantemente si pensi banalmente all'avvento del gioco online, del mobile e di tutte quelle tendenze che la tecnologia tutti i giorni ci porta ad affrontare. Dobbiamo essere al passo con i tempi, siamo una software house e dobbiamo costantemente investire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.